Sindaco Biondi, una elezione molto importante, guiderà a Lanci l'Associazione dei Comuni a un altro incarico di grande responsabilità. Sì, è una sfida interessante, importante, è una fase come al solito complessa per gli enti locali, c'è la stesura della legge di bilancio. Per il momento sembra che il comparto sia meno colpito rispetto in passato, il sistema delle autonomie locali saprà fare dell'unitarietà la sua cifra e io mi farò garante di questa necessità.